Oggi il grande sogno è lì davanti a noi e fino alla fine, come ho sempre detto, di partita in partita dobbiamo guardare solo quell'obiettivo. Anche quando vengono meno le forze, comunque sentire tutti questi che si gridano, che cantano per noi, è fantastico. Sono un'arma in più per noi, quindi se loro ci praticano, noi daremo il 100 di percensia. Ma come ho detto, noi oggi siamo in Venezia, siamo un gruppo forte, un gruppo che ha in mano un sogno. Dobbiamo essere concentrati e riuscire a tutti i costi a portare a casa questi tre punti. Io sono un uomo di campo. Io so cosa vuol dire combattere per vincere. Io sono un uomo di sport. Io so cosa significa vivere nel gruppo, leggere negli altri le tue stesse speranze. Io so cosa significa avere un sogno comune e trovarsi un passo da realizzarlo. Io conosco i pensieri che attraversano le vostre menti, le paure che dovete vincere. Io ci sono lottato. Io so che potete farcelo. Che farete di tutto. Che sentite che vi siamo vicini. Adesso ragazzi, adesso è il momento. Noi ci crediamo.